Oh mio Dio! Ma dove sta cazzo hai la testa? C'è stai sempre al telefono e poi ti distrai. Io non ti capisco ma tanto stai tranquilla che non esci più con le tue amiche senza parlare del fatto che sei maleducata e ti annoia qualsiasi cosa. Sei un pezzo di merda vivente e hai di sicuro preso da mia suocera c'è tanto ora sei in punizione perché fai sempre la sciocca. Ma se sto mangiando una mela?